Un libro per salvare l'orsetta morena, l'iniziativa del Parco Nazionale d'Abruzzo dove la piccola orsa è stata reintrodotta cinque mesi fa, dopo essere stata salvata da sicura morte, svezzata e allevata con successo dai biologi e veterinari del parco. Il libro fotografico L'Orso e l'Abruzzo è stato curato dal medico fotografo Maurizio Valentini. L'iniziativa è stata presentata dall'assessore regionale ai parchi Donato Di Matteo. È una bellissima iniziativa che rafforza il legame tra l'Abruzzo e questo flandicato che è l'Orso e che un anno fa abbiamo festeggiato qui con un'iniziativa perché l'abbiamo preso in una situazione veramente di precarietà. Oggi compie un anno per cui significa che è stato fatto un ottimo lavoro. Quindi questo binomio tra l'Orso e la natura e il Parco Nazionale è una cosa importantissima per la promozione del nostro territorio. Alla presentazione ha partecipato anche il presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Antonio Carrara. Ogni occasione per parlare dell'Orso per noi è sempre importante, ha detto. L'intero ricavato della vendita del libro fotografico verrà donata al Parco d'Abruzzo per tutelare l'Orso marzicano, in particolare Morena. Noi, ha aggiunto Carrara, abbiamo aggiunto il dono di un DVD sull'orsetta. Con questo cucciolo di orsa abbiamo fatto un'operazione mai svolta prima nel parco, allevandola in cattività per poi rilasciarla in natura. Grazie. Grazie.